Quando dice che anche tu meriti le migliori cure del mondo, Humanitas intende cose concrete. Laboratori di ricerca che trovano nuove cure e strutture d'avanguardia che le applicano. Come l'ospedale Humanitas con i suoi centri ad alta specializzazione. In più, l'accoglienza è il valore di un sorriso. Se pensi di meritare tutto questo, fai come me. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Humanitas per la ricerca. Iomerito.it